Scusate, scusate, c'è un'ulteriore novità importante, Renzi si rimette alle 7, quindi c'è Renzi che va alla direzione, c'è un suo tweet appena possibile, lo vediamo, questo è il colpo di scena delle 15 e 16, praticamente Renzi annuncia che alle 19, vediamolo insieme, adesso lo stiamo per vedere a tutto schermo, legge di bilancio approvata, alle 19 le dimissioni formali, grazie a tutti e viva l'Italia. Poi state vedendo, legge di bilancio approvata, ve lo ripeto, lo rivediamo ancora, alle 19 le dimissioni formali, grazie a tutti e viva l'Italia, poi c'è il riferimento, magari apriamolo per vedere se c'è un documento o una dichiarazione ancora più lunga e questo ci fa capire che praticamente anche su questo c'è stata una divaricazione, ma Renzi ha tenuto duro, subito dopo il voto al Senato e subito dopo le dichiarazioni nella sua relazione da segretario alla direzione del Partito Democratico, Renzi imbocca la strada del Quirinale e va a dimettere.